Oggi torniamo su Day to My Day Eeeh, daie, daie, daie Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Kippo Kalippo Erborino più grigio del quattro Reparto squilibrati Dai, non me, non me da l'ulto Oh, c'è qualcuno qua, seguiamolo Perfetto, forza Dai, ripariamo, ripariamo, ripariamo Facciamo attenzione Sento dei rumori strani, eh Sento dei rumori strani, ma non ce la guarda Non ce la guarda perché qualcuna è stata già ferita Forza che ce la facciamo Eeeh, dai, Gesù Eeeh, pure io però Mannaggia, non ce la facciamo a piada a lanza Sappiamo manco chi è il killer Eeeh, quella sta ferita però sta a posto Nulla agganciata, nulla agganciata Perfetto, un generatore è stato fatto Quindi Con questo ne mancano tre Perfetto Andiamo, io ti seguo Andiamo da qua Attenzione No No Sta qua nei pressi Oh, eccolo Via Mamma mia Ma perché non mi ha preso? Non lo so, stava rindondito C'ha un attimo che forse Si era assentato per andare in bagno Probabilmente E quindi non mi ha visto Allora, qua c'è qualcosa Ci sarà qualcosa qua dentro, no? Andiamo di sopra Ci sta sempre sopra, dai Eccolo E infatti E infatti Mi raccomando i riflessi Perfetto Dopo di questo ce ne manca uno Quindi ce la possiamo fare Oh, pare facile sta partita Però, dobbiamo ancora vedere Come va a finire Non si sa mai Non si sa mai Questa una è stata ferita Va bene Mai abbassare la guardia Non si sa mai Oh Con questo è l'ultimo Questo è l'ultimo La partita è più veloce Dalla storia questa Ma che è? No Dov'è? Dov'è? Eccolo Dietro di me Mannaggia Ce l'avevo quasi fatta Andando da qua Mannaggia All'ultimo Dov'è l'uscita? Da qua Forza Oddio no Mi sta a seguire Mi sta a seguire Non gliela faccio Non gliela faccio Eeeh Mi sta a seguire Mi sta a seguire Mi sta a seguire Nooo Per pochissimo Per pochissimo Che gli dovevo buttare giù Il pallet Mannaggia Vabbè dai Qualcuno mi verrà Spero Non è che mi lasciano così Eh Dai Su Eh Dai Oh Eeeh Ma questo si mette qua Signori Mi raccomando Questo sta qua Come famo Come amettemo Come amettemo Amettemo male Amettemo proprio male Perché io poi qua Ah T'ha preso a te Ha preso pure a me Perfetto Perfettissimo Uh Uh Attenzione Attenzione L'uscita sta da qua Sai che vi dico Che io me ne vado Ma chi me frega Proprio alla fine No Te prego Ma dai Ma che si fa così Ma che si fa così Ne rimane una qua Che è ferita Ma che è Dai Ma che partita è questa Ma è terribile Cioè ma non si può Fa così Quella è ferita Dovrebbe succedere un miracolo Un miracolo E quella ferita Che ancora non è scappata Mi viene a salvare Che sta laggiù Che non so che sta a fare Se me salva l'ultimo Ma non Non credo che abbia Alcuna intenzione Di venirmi a salvare Ma probabilmente E cala Probabilmente Non si salva manco lei Se non si sbriga Perché qua tra un po' Se chiude tutto Dai su Facciamo una cosa Eroica alla fine Servami Andiamo via Ma questo sta nei paraggi Ma figurati Figurati se non sta qua Dai 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 Andiamo Andiamo Perfetto Andiamo se ne Andiamo se ne Oh Oh Ma quella Perché sei là Fuggi Vabbè ce l'abbiamo fatta E' stata una partita Un po' strana questa E' abbastanza strana questa Però Non pensavo Perché sembrava che Il killer prima era tonto E poi Voi ci ha fatto un casino Ma noi Ce l'abbiamo fatta Boh però Voglio cambiare personaggio E me voglio più a lei Dai Mattatoio Irrancidito Almeno qua si vede C'è sta la luce Sendo già rumori strani Eh Ma quello che ci interessa a noi Sono il generatore E dai Forza Niente Forza niente Sta qua Eccolo va Eccolo va Eccolo va Mannaggia Ma me lascia andare Ok 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 Tiè Via Maledetto Maledetto M'ho fatta arrabbiare Nel frattempo Noi Forse è meglio Che ce ne ascondiamo Non lo so Perché sta arrivando Dov'è? Eccolo Eccolo Tiè Allora se non mi vede Io mi metterei qua Mi pare una buona strategia Che dite? E aspettare che tutti gli altri fanno il generatore e poi uscire Non sarebbe una cosa corre Ce n'è uno qua Perfetto Oh Guarda Bella squadra Sono una bella squadra Stanno a fare un bel po' Fatemene fa uno a me Così contribuisco Anch'io E infatti uno sta qua Mo ce lo facciamo Perfetto Ce la possiamo fare Tra l'altro nessuno è stato ferito qua adesso Eh ecco Abbiamo detto No però non l'ha ferito Che è successo? Dai via qua Eh vabbè Mo quasi finito Oh Oh Ottimo Ottimo Ce ne manca uno che è quello lì quindi Ma questo non mi sta aiutando Si mi sta aiutando Ce sta Perfetto Andiamo da qua Ma come ti sei vestita? Ma come ti sei vestito? Facciamoci questo Forza Dai che è finita È finita Uh L'ha presi due Ma che me frega Andiamo se ne è Forza è finita Dai 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 Perfetto L'uscita È di qua Andiamo Andiamo verso l'uscita Forza E ti devo pure curare Vabbè dai Non mi fa perdere tempo Però eh Che c'è sta l'uscita Perfetto Namo 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 C'è qualcuno ferito? Allora Due se ne sono andati Ci rimaniamo solo noi due Quindi di pieni Forza Andiamo Andiamo via Dai E per oggi è tutto Se vi è piaciuto questo video Lasciatemi un bel like Per sostenervi E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E attivate la campanellina delle notifiche Per non perdervi i prossimi video Buopule I finally see I can do so much better Dreams about you and me Wearing hugs and nice sleeves I can do so much better